Giorgio, una persona in questa foto, credo di riconoscerla, credo che abbia i fiori e credo che si chiami Fausto Coppi, ha il suo fianco e lo chiedo a Giorgio Cimuri chi c'è? Papà Giannetto, sorridente, felicissimo, era il giro d'onore della vittoria di Fausto nel giro di Francia del 52 e questa è un'emozione sempre per tutti noi perché papà allora fece 11 giri di Francia e 40 giri d'Italia, quindi una vita con le sue mani a massaggiare i grandi campioni. Che rapporto c'era Giorgio tra tuo papà e Fausto Coppi? Non era un rapporto semplice? Un'emicizia particolare anche perché Fausto più di una volta chiedeva al papà dei consigli per quello che era il suo futuro, anche per quello che poteva essere gli investimenti, tant'è che pensarono di fare una scuola di ciclismo assieme nel Reggiano, ma poi naturalmente purtroppo per la perda di Fausto a 40 anni non se ne fece niente, però ecco non era solo un rapporto del Mass Air con il corridore, era un rapporto tra due persone che ci volevano bene. Giorgio ci sono altre foto perché adesso vi facciamo vedere perché abbiamo visto questa che vede inquadrata proprio al Parco dei Principi di Parigi che adesso è noto anche a livello calcistico come realtà, adesso è come luogo. Ci spostiamo perché c'è un'altra foto, è una foto di gruppo? Qui eravamo in Via Emilia davanti al negozio che papà aveva aperto negli anni 35 e guarda caso il passaggio era di Alfredo Binda, allora commissario tecnico della nazionale, non era un po' ciclista, ma in questa nazionale c'era anche papà come massaggiatore e quindi era una visita di due persone che lavoravano insieme e che si stimavano, però d'altronde arrivando Binda immediatamente sono arrivati anche tanti sportivi e amici del papà. Ed è arrivato anche un fotografo che vi è immortalato, che è immortalato proprio il gruppo Alfredo Binda, lo ricordiamo, primo vincitore nel 1927, Giorgio. Esatto, esatto, che vinse la tappa di Reggio Emilia, ma vinse anche il Giro d'Italia nello stesso anno. Adesso passiamo dalle foto all'ammiraglia, Giorgio, perché questa è veramente una foto fantastica, è un ciclismo d'altri tempi. Sì, questa è l'ammiraglia dell'Atala, il papà è sempre stato massaggiatore dell'Atala, della famiglia Rizzato e qui lo vediamo come sempre con il suo sorriso e col braccio alzato per salutare probabilmente qualche amico e queste sono ammiraglie incredibili, ecco, perché le vediamo come sono scoperte e con queste ammiraglie facevano decine e migliaia di chilometri per seguire il ciclismo di allora. Giorgio, la passione per il ciclismo è calata in te in questi anni oppure ogni anno cresce sempre più? Ogni anno cresce sempre più, è così, è così, anche perché aver vissuto certi momenti della storia del ciclismo e vedendo oggi quanto riusciamo a capire di come è trasformato, direi che i tempi della polvere, come li chiamava il papà, le borracce e i tubolari che erano chiaramente ben diversi da quelli attuali ti ricordano un ciclismo storico e per mia fortuna sono riuscito a viverlo. Giorgio, appuntamento a 18 maggio? 18 maggio, ore 17 su Via Lisonzo per l'arrivo del volatone. Grazie. Grazie.